Dai 3 milioni del 2017 per le borse di studio destinate agli universitari a 13 milioni di euro. Si sommano poi i contributi statali e i fondi europei per un totale di circa 40 milioni di euro a disposizione dei ragazzi, soprattutto per i fuorisede. I beneficiari passano da 8.760 a circa 9.500. Aumentano anche gli importi per ogni singola borsa. In questa manovra va considerato l'allargamento dell'ISE da 20.000 a 23.000 euro, un meccanismo che consentirà l'ampliamento della platea di chi può avere sostegno allo studio. Le novità contenute in una recente delibera della Giunta sono state introdotte dal governatore Francesco Pigliaro dell'assessore della pubblica istruzione Giuseppe De Sena, presente anche l'arritrice dell'Università di Cagliari e Maria del Zompo. Abbiamo bisogno di persone che sappiano dare del tuo al cambiamento, ha spiegato il Presidente della Regione. Scuole e università devono fare sempre di più. Fermarsi è impossibile. Gli Atenei devono attrarre nuove generazioni e formare giovani preparati e competenti. L'università deve dare la percezione di qualità e i ragazzi devono resistere alla tentazione di andare via. Sulla base dei dati storici forniti dall'Università di Cagliari e Sassari sono circa 9.000 gli studenti sardi potenzialmente interessati ai bandi che nelle prossime settimane saranno emanati dall'ERSU.